Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 181esima puntata del podcast di Marcosbox a commentare con voi come sempre le principali notizie dal mondo del software libero open source della settimana appena trascorsa. Anche questa, come potete vedere se mi seguite su YouTube, è una puntata video. Se ancora non l'aveste fatto vi invito a iscrivervi numerosi al canale YouTube di Marcosbox, mi trovate cercando quello del pacco su YouTube. E mi raccomando di mettere mi piace, condivisione e quant'altro, come dicono sempre tutti quanti gli YouTuber, quelli navigati. Fatelo crescere un po' sto canale, che ultimamente ho perso qualche visualizzazione e poi alla fine video vi spiego anche che cosa mi ha fatto perdere anche iscritti nell'ultimo periodo. Non lo so, la gente ogni tanto si incavola per le fesserie. Vabbè, ma comunque, iniziamo la puntata. Nella prima parte della puntata parleremo di distribuzioni Linux che si sono aggiornate o sono state annunciate. E nella parte finale parleremo di argomenti un po' generalistici. Ma andiamo con ordine e iniziamo la puntata parlando di Red Hat Enterprise Linux. Perché c'è stato il rilascio di un nuovo progetto, anzi di Red Hat, chiamato Red Hat Enterprise Linux AI. Che, come lascia presaggiori il nome, è una versione di Red Hat Enterprise Linux dedicata a chi sviluppa strumenti di intelligenza artificiale. Praticamente è una piattaforma di modelli base che consente agli utenti di sviluppare, testare e distribuire modelli di IA generative in modo più semplice. Sulle pagine di Marcosbox trovate il comunicato stampa ufficiale con tutti quanti i contenuti di questa distribuzione, di questo progetto, come lo volete chiamare voi. Red Hat Enterprise Linux per adesso è disponibile come anteprima per gli sviluppatori, poi successivamente verrà stabilizzata e resa disponibile per tutti. Fatemi sapere se voi siete del settore, se vi interessa questa distribuzione. E restando adesso sempre in tema Red Hat, c'è stato il rilascio di Arma Linux 9.4. Arma Linux, che cos'è? È una distribuzione che viene portata avanti dalla fondazione Arma Linux OS, che va a realizzare una distribuzione compatibile con Red Hat Enterprise Linux. Praticamente questa distribuzione viene derivata dai sorgenti di Red Hat Enterprise Linux. Questa nuova versione di Arma Linux segue i sorgenti di Red Hat Enterprise Linux 9.4 e in più rispetto alla distribuzione nel quale deriva, va a introdurre alcuni aggiornamenti per migliorare la sicurezza delle nostre macchine, per la protezione dei dati, per facilitare le operazioni di ripristino, per potenziare la funzionalità di snapshot delle macchine virtuali nell'ambiente di cloud, ibridi, e infine va anche a ripristinare il supporto per il vecchio hardware deprecato da Red Hat Enterprise Linux. Sull'articolo dedicato che trovate sulle pagine del blog, come potete vedere, c'è tutta una lista di tutti quanti quell'hardware che è stato disattivato upstream da Red Hat Enterprise Linux e che adesso è stato ripristinato su Arma Linux 9.4. Ovviamente Arma Linux è disponibile con ISO installabili, ISO live, immagini cloud, immagini container, chi più ne ha più ne metta. È disponibile anche per Azure, per Google Cloud, per Oracle Cloud, insomma è disponibile praticamente, c'è anche un'edizione per Raspberry Pi. E poi non ve ne ho parlato sulle pagine del blog, ma si è aggiornata anche un'altra distribuzione derivata da Red Hat Enterprise Linux, ovvero Rocky Linux, che è arrivata anche lì, alla versione 9.4. Vediamo se che cosa, nel frattempo, approfittiamo per andare a vedere che cosa hanno fatto quelli di Red Hat Enterprise, di Rocky Linux. Stasera mi sto impappinando in continuazione. Vediamo un po' che cosa dicono, che cosa hanno fatto anche loro. Che è stato fatto? Non ho fatto niente di nuovo, anzi. Il grosso del lavoro l'hanno fatto quello di, hanno fatto quelli di Erma Linux che hanno ripristinato l'hardware non più compatibile, mentre quelli di Rock Linux hanno fatto il compitivo soltanto di aggiornare la versione. Vabbè. E infine, chiudiamo questo spezzone dedicato al mondo Red Hat parlando di Fedora, perché c'è stato il rilascio di Fedora Asai Remix 40. Questa versione di Fedora è praticamente l'adistro di riferimento del progetto Asai Linux, che mira, come ben sapete, a rendere i Linux compatibili sui Mac e Apple Silicon. Segui il rilascio di Fedora 40, avvenuto circa due settimane fa, quindi va a importare, a portare tutto quanto le migliorie che troviamo su Fedora 40, sia in termini di desktop environment, che migliorie varie che sono state appontate qua e là, e lo possiamo trovare anche su questa versione di Linux per Mac e Apple Silicon. È stata... vediamo un po' quali sono le novità di questa qua. Oltre ai miglioramenti a portare ovviamente da Fedora 40 troviamo il supporto OpenGL 4.6 conforme con Apple Silicon, supporto per l'audio di qualità e ovviamente come desktop environment principale troviamo KDE Plasma City con Calamares come installer grafico. È disponibile anche una versione con GNOME, per la precisione, con GNOME 46, però diciamo, il desktop environment di punta di Fedora Asai Remix è KDE Plasma. Io sono veramente tentato di prendere un Mac, magari uno con M1, per poter provare le brezze di installare Linux su Mac. Fino alla fine, se riesco a trovare un po' di disponibilità economica, la devo fare la pazzia, perché noi siamo pinguini, ci piace mettere Linux praticamente ovunque e metterlo su una macchina come un Mac con Apple Silicon con tutti quanti i vantaggi che offre la piattaforma, che offre i SOC di Apple è tanta roba, tanta roba. E passiamo adesso ad un'altra distribuzione, cambiamo decisamente ramo di distribuzione Linux se passiamo a una derivata di Ubuntu che, sapete, mi sta molto a cuore. Sto parlando ovviamente di PopOS e sto parlando del nuovo desktop environment che vedremo su PopOS che si chiama Cosmic Day. Ogni metà mese il team di System76 pubblica un nuovo post mensile con l'ultima informazione sullo sviluppo di Cosmic e questo mese ha descritto tanti miglioramenti e tante novità che stanno arrivando su Cosmic Desktop. La prima cosa è il mirroring. Il mirroring del display è quasi terminato. I prossimi passi includono l'implementazione del supporto per il mirroring del display nelle impostazioni di Cosmic e in Cosmic Render oltre al completamento di ulteriori ottimizzazioni. Stanno creando i pacchetti compatibili con l'architettura ARM, ARM64 per PopOS 24.04 e questa è anche un'altra cosa molto bella, molto interessante di PopOS e di Cosmic perché vedremo Cosmic sulla prossima versione di PopOS finalmente. Per quanto riguarda l'App Store Cosmic ultraveloce perché ci ritengono a sottolineare ultraveloce e hanno ragione perché è fantastico. Ovviamente perché questo si basa su Database mentre gli store di altri desktop environment non si basano su Database ecco perché questo è molto più veloce rispetto agli altri. Vabbè, piccola nota a margine del perché questo App Store è velocissimo. È quasi terminato. È quasi stato implementato correttamente per la versione Alpha non resalto che perfezionare alcuni piccoli problemi di interfaccia grafica però è pronto. Qui potete vedere uno screenshot del Cosmic App Store Il CEO di System76, Carl Richel ha espresso il suo stupore per la velocità dell'App Store Cosmic quindi anche loro che sono interni si appassionano si stupiscono di queste migliorie di queste ottimizzazioni che sono state apportate che gli consentono a questo App Store di essere velocissimo e ha detto lui per anni ho utilizzato il terminale per aggiornare il sistema ma adesso posso farlo direttamente dallo store stavo dicendo App Store alla Apple Cosmic App Store devo dire preciso altrimenti poi facciamo confusione Miglioramenti sono stati apportati anche in Cosmic Files questo è un piccolo screenshot di Cosmic Files è stata aggiunta l'integrazione a GV File System quindi il GNOME Virtual File System per la gestione degli archivi esterni come unità flash e o condivisioni di rete è stato poi implementato un nuovo menu contestuale nella navigazione dei file che potete vedere nello screenshot se mi seguite su YouTube Miglioramenti poi anche in Cosmic Grater quindi la schermata di login e quant'altro Cosmic Cade Edit miglioramenti anche migliorata il drag and drop quindi è stata aggiunta la possibilità di trascinare testo e immagini per Cosmic Files migliorata il copio e incolla apportate diverse ottimizzazioni e correzioni alla gestione dei temi e anche tanti miglioramenti sono arrivate tante novità sono arrivate dalla community di Cosmic che sta implementando diversi tool diverse ottimizzazioni all'interno di Cosmic Dell quindi qui potete vedere uno screenshot di alcune applicazioni che sono state integrate e io non vedo l'ora di mettere le mani su su Cosmic Desktop in forma definitiva sperando compatibile al 100% con i driver Nvidia perché qualche problemino c'era nella sessione la scorsa volta perché si passa su Wayland e a me mi sta piacendo sta piacendo a tantissimi di voi tantissimi di voi all'ascolto mi lasciano i commenti mi parlano privatamente tutti quanti non vedo l'ora di poterci mettere le mani potete provarla già da adesso Cosmic Desktop in volume lo potete provare sia su PopOS ma lo potete provare anche su Fedora mi sembra qualche tempo fa aveva fatto anche una guida che vi spiegava come poterlo provare su Fedora nel frattempo ci sono alcuni commenti ad esempio c'è Murad Reis uno dei lettori del blog che dice che lo sta utilizzando su Fedora ed è rimasto piacevolmente sorpreso da questo desktop environment quindi oh, datemi una mossa a team di Sistema 76 fateli uscire subito perché io non sto più nella pelle come tantissimi di voi all'ascolto e passiamo alla seconda parte di questa puntata del podcast di Marcos Box parlando di argomenti un po' diversi che non centrano direttamente con il software ma ce li possiamo far centrare la prima notizia riguarda una brutta storia che arriva dagli Stati Uniti perché questi ban continui che il governo degli Stati Uniti sta perpetrando nei confronti di aziende cinesi un po' stanno rompendo perché diciamo vanno a rompere il paniere non soltanto a queste aziende ma anche a noi consumatori che potevamo avere dei prodotti di qualità invece non li possiamo più avere sto parlando di una notizia che è stata postata qualche giorno fa gli Stati Uniti hanno bloccato la vendita di processori Intel e Qualcomm a Huawei Huawei lo sapete è il produttore cinese era famosissimo per i suoi prodotti i suoi smartphone erano davvero ottimi erano davvero innovativi aveva fatto anche un suo brand Honor che era un ottimo brand ma i prodotti i prodotti Huawei veramente facevano la differenza si avevano dei software che andavano un po' svecchiato però andavano a innovare tanto sul lato hardware ed erano anche prodotti di qualità io conosco diverse persone che hanno ancora smartphone Huawei che funzionano in maniera perfettamente efficiente c'è stato il primo ban da parte degli Stati Uniti per quanto riguarda Android si sono dovuti fare loro con un sistema operativo per smartphone tutto fatto in casa con Blackjack e Squigo di russo e ha avuto un bel colpo un brutto colpo ha avuto Huawei per questa vicenda si è sta riprendendo c'è stato poi il ban che gli ha vietato di avere chip dotati di connettività 5G poi si è ripresa anche sotto questo punto di vista perché qualche tempo fa quest'estate anzi aveva lanciato sul mercato un nuovo smartphone dotato di tecnologia 5G sviluppato assieme alla fonderia cinese SMIC quindi Huawei viene preso a cazzotti continuamente da parte degli Stati Uniti con questi ban continui che gli vengono fatti e adesso gli è arrivato un altro ban che appunto gli taglierà riterperare ali per quanto riguarda il settore dei computer portatili perché Huawei oltre a produrre smartphone è anche un ottimo produttore di computer portatili anche in questo caso tutti quelli che l'hanno provato mi hanno sempre detto che i Matebook sono computer stupendi ottimamente assemblati e di qualità e adesso grazie a questo nuovo ban che è stato imposto dagli Stati Uniti Huawei non potrà commercializzare prodotti in futuro con Intel e Qualcomm con chip Intel e Qualcomm quindi non solo quelli dotati di connettività 5G ma a 360 gradi ovviamente la Cina si oppone fermamente al fatto che gli Stati Uniti estendano eccessivamente il concetto di sicurezza nazionale e abusi dei controlli delle esportazioni per reprimere aziende cinesi senza alcuna giustificazione questa è la dichiarazione che è stata fatta dal ministro degli esteri cinesi con un comunicato perché gli Stati Uniti hanno cacciato la solita scusa che fanno questo per per evitare che gli attenti alla sicurezza nazionale questa scusa non sta più in terra diciamoci questo lo fanno per bloccare l'avanzata di questo colosso tecnologico io la vedo così perché sappiamo benissimo che le aziende staturitensi ci spiano e ci tracciano continuamente poi da gente che ci spia e ci traccia continuamente arriva il ditino puntato contro sono i cinesi che ci spiano e ci tracciano continuamente è ridicola questa cosa comunque vedremo come reagirà Huawei c'è da dire una cosa ve ne avevo parlato già negli scorsi mesi il governo cinese ultimamente anzi ha predisposto già un piano B già da tempo ve ne ho parlato nello scorso mese di marzo perché una tizia che riguardava il governo cinese con una serie di linee guida volte eliminare gradualmente l'utilizzo di microprocessori statunitensi prodotti da Intel e AMD su personal computer e server governativi in favore di soluzioni nazionali come quelli prodotti dalle aziende cinesi Huawei e Pythium quindi che cosa accadrà adesso con questo ulteriore ban probabilmente Huawei spingerà ancora di più per i suoi i suoi i suoi prodotti con i suoi processori sviluppati in casa e ovviamente avrà sovvenzioni da parte del governo centrale cinese che già già da tempo ha deciso di diventare indipendente dal punto di vista tecnologico sotto questo punto di vista anche per andare a sopperire a tutti quanti questi ban che gli Stati Uniti stanno operando nei loro confronti e ripeto questo mi sembra un po' una cavolata quella fatta dagli Stati Uniti perché gli stanno dando anche un motivo in più agli cinesi di di fare tutto per loro di distaccarsi continuamente e per me è una fesseria perché non li stanno isolando li stanno rafforzando sotto questo punto di vista perché se quelli iniziano a investire perché hanno le capacità hanno il know-out per poter fare prodotti di qualità a mio avviso ne risentiranno anche i produttori occidentali a livello globale perché tu mi metti il ban per l'acquisto di processori prodotti negli Stati Uniti e quant'altro con tecnologie occidentali quali si fanno tutti i prodotti in casa e poi magari riescono ad arrivare anche in maniera competitiva sul mercato internazionale quindi andando a penalizzare ulteriormente le aziende che prima vendevano e che adesso non possono vendere più quindi è un cane che si morde la cosa per me stanno facendo una cavolata continua agli Stati Uniti perché poi ci impongono anche a noi europei di seguire questi ban vedremo nei prossimi nei prossimi mesi come si evolverà la situazione ricordo anche sempre i soliti problemi con Taiwan e quant'altro quindi occhio altra notizia altra notizia completamente distaccata dal mondo del software libro però ci interessa anche a noi riguarda una vulnerabilità che è stata scoperta all'interno praticamente di tutte quante le VPN questa vulnerabilità chiamata Tunnel Vision è stata scoperta dal Leviathan Security Group c'è il link su Marcos Box con questa vulnerabilità la CVE 2024 3661 come funziona questa vulnerabilità un aggressore può utilizzare questa tecnica che è stata scoperta e pubblicata dal Leviathan Security Group per forzare il traffico di un utente bersaglia di fuori del suo tunnel VPN utilizzando le funzioni integrate del Dynamic Host Configuration Protocol il risultato è che l'utente trasmette dei pacchetti che non sono mai stati criptografati da una VPN e un aggressore può spiegare il suo traffico c'è tutto quanto un articolo che vi ho pubblicato sulle pagine di Marcos Box che spiega come funziona questa tecnica e la cosa triste è che questa vulnerabilità praticamente era possibile già da il 2002 quindi potenzialmente potrebbe essere già stata scoperta potenzialmente utilizzata in questo caso quasi sicuramente se è stata scoperta è stata quasi sicuramente utilizzata da da attori statali diciamocelo perché questi tipi di vulnerabilità quando vengono scoperte vengono utilizzate dai governi che per spiare i governi anche occidentali soprattutto quelli occidentali lo sappiamo che cosa c'è stato in passato con lo spionaggio da parte del governo statunitense a tutto il mondo come risolvere il problema almeno su linux l'uso di namespace di rete su linux può risolvere completamente questo problema per quanto riguarda windows un po' c'è da da capire un po' come si si muoveranno i vari fornitori di servizi VPN andatevi a leggere l'articolo che ho postato sulle pagine del blog perché è una cosa che poi quando vengono scoperte queste cose uno si dice cacchio allora vedi vedi che non bisogna mai fidarsi di nessuno come diceva il vecchio adagio l'unico computer sicuro è il computer quello spento e c'è una ragione c'è una vera ragione anche che l'ha detto vabbè e passiamo all'ultima notizia di questa settimana che poi non è una notizia ma è una non recensione che ho pubblicato qualche giorno fa perché ho fatto una recensione sto guardando questa parte perché ho qua la mia sinistra il libro ve lo faccio rivedere nel caso ho recensito un libro yokai la parata notturna dei 100 demoni e l'ho definita nella recensione un libro open source perché è un libro open source questo libro perché è stato scritto utilizzando praticamente tutto soft il libro open source è stato scritto con libro office è stato impaginato con scribus tutte quante le illustrazioni sono state fatte con gimp e sono stati utilizzati dei caratteri gratuiti e infine tutto è stato fatto girare su ubuntu linux quindi l'autore Matthew Mayer ha realizzato un piccolo capolavoro fatto totalmente con software libero open source quindi da apprezzare ulteriormente questo libro se vi interessa l'argomento di yokai potete trovare anzi trovate il link affiliazione amazon al di sotto dell'articolo che ho pubblicato sulle pagine del blog nel frattempo sta passando un'autombulanza spero nulla di grave alla persona che si trova al suo interno io vivo vicino praticamente vicino all'ospedale quindi ecco perché sentite spesso sirene dell'articolo comunque di dicevo ripeto yokai la parata notturna di 100 demoni scritto da Matthew Mayer edito in Italia da noi noi trovate la recensione sul canale youtube di marcosbox e trovate il link affiliazione amazon se volete comprare il libro e vi dico anche quella cosa che vi avevo detto dall'inizio puntata questo video mi ha causato dei problemi perché subito dopo la pubblicazione ho visto che sono state parecchie disiscrizioni al canale youtube la gente si è offesa che ho fatto un video su una cosa che non è linux però tecnicamente è linux questa cosa qua perché è stata fatta con linux quindi c'entra perfettamente questo questo libro questo video e vabbè e con questa ultima notizia si conclude qui questa 181esima puntata del podcast di marcosbox io come sempre vi ricordo che potete trovarmi praticamente sui principali social mi trovate su facebook mi trovate su x su x c'è sia il mio profilo personale che trovate linkato che è quello di di marcosbox quello di marcosbox non lo linko mai perché lo utilizzo solo per postare le notizie mentre quello personale trovate anche qualche altra fesseria ogni tanto ovviamente mi trovate su youtube con quello del pacco il canale youtube vi faccio vedere quello del pacco così lo vediamo tutti tutti assieme ecco di qua quello del pacco è bellissimo avete visto ci ho fatto anche la nuova copertina e mi trovate poi sulle principali piattaforme di podcasting mi trovate su linkedin mi trovate su mastodon mi trovate su castopod dove potete ascoltare anche il podcast di marcosbox su mastodon quindi col servizio collegato con mastodon e soprattutto trovate le notizie su telegram ce ne sono tre canali il canale principale è dedicato alle notizie nude e crude quindi che potete utilizzare a mod di feed reader se non amate i feed reader i feed lo trovate comunque in basso sulle pance del blog se siete interessati e trovate poi la community telegram di marcosbox alla quale vi invito a iscrivervi numerosi perché non si parla soltanto di links ma si parla anche di altre cose e infine trovate un canale telegram dedicato alle offerte amazon acquistando su uno dei link affiliazione potete supportare il blog con appunto per voi non vi cambia niente è amazon che mi dà una piccola percentuale altrimenti se siete più scavati e sapete come utilizzare i codici referral li trovate pubblicati sul blog il codice marcosbox trattino 21 se invece siete pigrissimi come come il sottoscritto c'è un simpatico tux sulle pagine del blog che ci cliccate da sopra e vi rimanda al link affiliazione infine io vi ricordo che potete supportare il blog acquistando o rinnovando la vostra VPN su NordVPN qui in basso come sempre vi lascio in descrizione il link con l'offerta del momento ultimamente mi sembra che ci sia un'offerta che vi dà anche dei buoni spendibili online per acquistare la roba quindi se volete una VPN sicura veloce affidabile NordVPN link in descrizione lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo speriamo la prossima puntata del podcast di Marcos Box nella prossima settimana se non mi sentite se non avete le mie notizie la prossima settimana sappiate che sarò rapito dal lavoro quindi abbiate un po' pazienza e devo un po' sistemarmi con alcune cose ciao ciao